L'archeologia preventiva, ma anche l'archeologia in area urbana, in genere ci racconta molte cose, ma attraverso minuscoli frammenti. In questo caso, anche qui c'erano frammenti, ma come vedete il risultato non è minuscolo. Sono dei giganteschi contenitori dell'età del bronzo finale che ci dicono, uno, che c'era molto da conservare e quindi c'era probabilmente una produzione, magari anche un surplus di produzione in quell'età. Ma ci dicono anche che Mantua, o meglio l'area di Mantua e gli insediamenti che insistevano sull'area di Mantua sono molto più antichi di quanto si pensasse. Ecco, tutto questo può raccontarti uno scavo in area urbana, sotto le strade di tutti i giorni e questo viene raccontato molto bene al Museo archeologico di Mantua, a Palazzo Ducale. Questo è sicuramente un ritrovamento eccezionale per la città di Mantua e per l'epoca di riferimento che è il bronzo finale. Questi ritrovamenti provengono dal quartiere del Gradaro, detto anche Fiera Catena, un'area della città che si trova nella parte sud-est, appena al di fuori diciamo del centro storico e che è stata insediata fin dal 400 in avanti. Lo scavo di Fiera Catena ci ha infatti restituito ciò che resta di un quartiere urbano, databile a partire dall'età rinascimentale fino all'età moderna. Tuttavia una notevole sorpresa è stata costituita proprio dal ritrovamento di ciò che restava di un insediamento molto più antico, databile a circa 3.000 anni fa, appunto all'età del bronzo finale. E' stato un ritrovamento inaspettato perché fino a questo momento noi non conoscevamo nessuna parte strutturata dei primi insediamenti che interessarono ciò che poi diventerà secoli dopo l'area urbana di Mantua. Si trattava veramente di uno stretto lembo di terreno risparmiato dagli interventi dei secoli posteriori e nel quale gli archeologi hanno potuto leggere ancora la presenza dei resti di antiche capanne. All'interno di queste capanne sotto il pavimento di una di esse è stata messa in luce una grande buca di forma circolare all'interno della quale sono stati recuperati un cospicuo numero di frammenti ceramici e questi frammenti ceramici una volta ricostruiti e restaurati hanno svelato di che cosa effettivamente si trattasse. Al di sotto di questi pavimenti venivano conservati dei grandi contenitori ceramici. Questi contenitori che sono eccezionali innanzitutto per le loro dimensioni avevano con ogni probabilità la funzione di costituire delle piccole dispense di cibo e di prodotti alimentari come grano, altro tipo di cereale o legumi o comunque alimenti di questo genere. la loro forma varia, abbiamo un grande d'olio di forma ovoidale per esempio, un grande contenitore biconico chiamato così per la sua forma e decorato a solcature ma ciò che colpisce di questi ritrovamenti è non soltanto la loro quasi completezza, i restauratori sono riusciti a ricostituirli quasi interamente ma anche le grandi dimensioni. Ecco, che fotografia del luogo ci possiamo immaginare? Allora, sulla base dei ritrovamenti effettuati dobbiamo immaginarci un villaggio che aveva una certa estensione però, si trovava in un'area sopraelevata rispetto ai laghi circostanti, quindi alle acque, una zona pertanto posta a riparo dalle sondazioni a cui spesso era soggetto il mincio, ma che arrivava fino a lambire le sponde della superficie delle acque. Le abitazioni dobbiamo immaginarcele costituite con materiali semplici, paglia, legno, argilla, ma il dato archeologico relativo al ritrovamento di questi grandi doli per derrate ci racconta qualcosa in più di questo centro e di questa comunità. Perché? Perché evidentemente la possibilità di stoccare degli alimenti in contenitori così grandi, così voluminosi, probabilmente era finalizzata anche a un'attività di redistribuzione nel territorio e magari anche presso comunità diverse, proprio di queste riserve alimentari. L'attività di scavo qui ha portato proprio a una storia da raccontare. È vero che gli archeologi cercano spesso di ricostruire narrazioni che possono essere utili anche per il grande pubblico, però qui effettivamente c'è molto da raccontare su questa sepoltura. Assolutamente sì. Gli scavi archeologici degli ultimi anni hanno rivelato nell'area delle case dei canonici di Via Rubens, nel pieno centro storico di Mantua, la presenza di un edificio ottagonale costruito tra il V e il VI secolo d.C. Una volta che questo edificio smise di essere utilizzato, ha perso la sua funzione probabilmente di battistero, la sua area venne utilizzata come area cimiteriale, come spazio cimiteriale. Qui è venuta alla luce nel 2012 questa eccezionale sepoltura di un bambino, un bambino di età molto piccola, tra i 3 e i 5 anni, appartenente certamente a una potente famiglia dell'élite Longobarda. L'élite Longobarda che aveva appena conquistato Mantua nel 603 d.C., secondo la tradizione. Quindi è un bambino non comune dal corredo? Assolutamente no, il suo corredo funerario dimostra la ricchezza della sua famiglia. Vediamo infatti che è costituito da numerosi pregiati elementi. In primo luogo possiamo vedere qui ciò che resta di una cintura, cosiddetta cintura multipla, costituita da una base in cuoio, probabilmente, a cui erano applicate queste decorazioni in oro massiccio. Quindi un oggetto estremamente prezioso, soprattutto se consideriamo che si trovava nella tomba non di un grande guerriero Longobardo, ma di un piccolo bambino. Noi sappiamo che la famiglia a cui apparteneva questo bambino era molto probabilmente cristiana. Lo possiamo dedurre dalla presenza di una piccola croce in oro, in mina d'oro, che era applicata sul sudario, e dalla collana che il bambino indossava, che è decorata con delle perle di pasta vitrea, ma anche da una croce in argento e da un pendente monetale realizzato da una moneta di Costanzo II, una moneta molto più antica, perché risale alla metà del IV secolo d.C., ed è di un imperatore che era di fede ariana. Potete vedere questo coltello in ferro che apparentemente sembra costituire l'elemento più povero del corredo funerario. Si tratta invece, almeno dal punto di vista degli archeologi, dell'oggetto probabilmente più interessante, che ha svelato nuovi risultati scientifici. È stato infatti sottoposto ad analisi microbiologiche che hanno consentito di rintracciare e identificare alcuni resti organici presenti adesi sulla sua superficie. Grazie agli studi effettuati da Mauro Rottoli, noi sappiamo infatti che questo coltello aveva molto probabilmente un manico in corno di cervo e un fodero o il manico stesso decorati con elementi in argento. Piccoli frammenti di cuoio ritrovati adesi sulla superficie hanno consentito di capire che il fodero era stato realizzato appunto in pelle, pelle di capra, come hanno consentito di riconoscere i follicoli, i piliferi presenti, il cui disegno si può ancora vedere sulla superficie del frammento. Da un altro tessuto realizzato invece in lana erano state realizzate le brache, cioè i pantaloni longobardi, che erano caratterizzate da un cosiddetto disegno spigato, che è con delle spighe, a forma di spiga di grano. Un terzo tessuto invece sottilissimo che si è miracolosamente conservato era probabilmente il sudario, una sorta di velo che ricopriva il bambino e a cui era cucita la crocetta in oro che abbiamo visto prima. Uscendo da questa mostra, il visitatore cosa ha imparato di più della Mantova archeologica rispetto a dieci anni fa, per esempio, o quindici anni fa? Grazie alla mostra il visitatore può scoprire che innanzitutto le origini più antiche di Mantova possono essere retrodatate di circa 600 anni rispetto alla Mantova etrusca che conoscevamo fino a poco tempo fa. Riguardo invece all'epoca longobarda conosciamo qualcosa di più sugli usi e i costumi di questa popolazione. Infatti la mostra è stata l'occasione per presentare nuovamente il ritrovamento di questa tomba, arricchendolo di nuovi studi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!